Un bel cento per iniziare, un roboante più 26 a condire il tutto. A Trieste finisce 100-74 la prima di campionato della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ed è un debutto che porta a rispolverare gli annali biancorossi per andare a trovare una vittoria così netta alla prima di campionato nella massima serie. La squadra di Repescia domina in terra giuliana con sofferenze limitate al minimo sindacale del secondo quarto. Abdur-Rakam mette 21 punti, Kravic 20 e Moretti 19 ad infiocchettare una prova corale che non risente delle defezioni di Delfino e Charalampopoulos. Molto semplici. Prima di tutto vorrei fare complimenti ragazzi per una prestazione veramente buona da nostra parte senza due giocatori importanti per il nostro roster, Vassili San Carlos. Avevo paura prima della partita e riusciremo a non mantenere la nostra intensità 40 minuti con una panchina un po' più corta rispetto a pre-season. Per fortuna siamo riusciti, abbiamo giocato una buona partita controllando la secondo me da primo fino all'ultimo minuto con una difesa molto solida, con una transizione molto molto buona e con tanta lucidità e precisione e concentrazione in attacco. L'unica cosa che non mi è piaciuta è che abbiamo parlato prima della partita perché l'ultimo torneo uguale alla Teramo abbiamo sofferto molto in ribalzo e secondo quarto abbiamo subito tantissimi ribalzi in attacco e questa cosa ha aiutato molto Trieste a ritornare in partita e secondo me è il motivo più importante perché è solo stato più tre per noi in primo tempo. Nel campionato di calcio di Serie C la Vispesoro reagisce con una grande prestazione alla scoppola rimediata con l'Ancona ma Sasseri resta l'amaro di una vittoria meritata che è sfumata al 96esimo minuto. Ultimo respiro in cui il gol dell'attaccante Sardo Scappini ha ripreso una vis che nonostante le assenze era andata prima in vantaggio con Provazza poi ripresa inizio secondo tempo e di nuovo col muso avanti grazie a Fedato. Sembrava fatta e invece dopo Pontedera ecco la seconda vittoria sfumata al fotofinish. Va peggio Alfano in Serie D che a Porto d'Ascoli perde 2-0 interrompendo la bella partenza Granata. Dal calcio al calcio 5 ecco la prima vittoria stagionale per l'Ital Service che dopo la sconfitta ad esordio a Pescara la spunta per 4-3 sulla neopromossa città di Melilli alla prima al Palafiera. In gol Murillo Schiochè, Chitola, Canal ed Oliveira. Parte invece con una sconfitta la stagione di Serie A della Fiorini-Pesaro Rugby che a Roma china il capo alla Lazio Rugby per 47-10.